Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video su Formula 1 2018 carriera co-op con XanderGamer90 carriera che sta procedendo con una rapidità incredibile direi beh magari in questo episodio dopo quello che carichi tesi esatto, adesso ricominciamo seriamente l'ho detto l'ha detto e soprattutto Xander ha un annuncio da fare molto importante si? si, quello che hai detto prima è quello che hai detto prima che adesso giochi seriamente ah si, adesso che non sono più uno youtuber ho più tempo per giocare seriamente ah, a proposito quindi dalle prossime volte tornerò a competirio perché Mick eh io sono già competitivo è come la Juve e a proposito c'è ad alzare il livello di difficoltà eh si, oggi abbiamo Monaco, non tocchiamo la play da un po' cioè almeno io no, 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 quant'è che hai di difficoltà? È bassa ragazzi, è bassa è altissima, è altissima è altissima, via dai, esatto tu cazzo è stretta sta pista oh io tra l'altro col pad, figa non si può ma basta con ste cuffie di figa, le vendo, cazzo c'ho le cuffie che, non so se, tu hai le turtle beach 5 c'è come le mie? si ecco, anche te le accendi e ti dice dopo un po' tipo premi il tasto ma perché se li ho accisi? no, ho mai capito, non ho capito abbiamo un problema al DRS Alexander diciamo bene qua tanto qui il DRS porca puttana, porca puttana stavo per finire nella galleria schiantato anche io lì non so come l'ho tenuta eh, sì ma io non so come l'ho tenuta, non so neanche come la farò io ho già rotto l'ala eh, per la cronaca no, Alexander compra un logitech di figa che costa 150 euro, po', noia non ho fatto i soldi, purtroppo, stavolta sì, che almeno giochiamo online, perché non si può giocare online non so, però dove cazzo lo metto io il volante qui? ma figa te lo vediamo eh, appunto che cojoni però, non curvano eh, ste cazzo di auto di figa fatele con le ruote che girano, zio porto allora, là, boom! ti stai spiantato, che batte? no, mi gira il cazzo, ho sbagliato proprio le ultime curve vabbè, stavo migliorando ancora, ma... madonna sì, secondo me ero anche viola una certa eh, migliorato però dai non sei in pull, ma a 1-12 hai fatto poco meno di me qui io quinto io quinto sarà un bel gran premio sì, 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 primo giro sportellato e ci buttiamo fuori sì tu centri me aspetta che si andrà a fare avanza ah, botta spenalità, eh attenzione, attenzione, attenzione partiamo quarto e... la spunta Hamilton sì, tu parti settimo tutto pronto! com'è? no, non mi ricordo la frizione x faccio il giro di raggio, no? mi sono già in auto, sono già inserito nella mia auto ah, aspettavi da mia persona madonna, così proprio a freddo dove si parte? dove siamo partiti? puttana, froglia, puttana! tana, non si può partire così alla mattina presto non ero pronto, non ero concentrato non ero pronto, non ero concentrato oddio, ma... che che mi ha preso? vedo pezzi! sainz, sainz, oddio, Mick di travesse Mick, levati! levati! Mick! 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 vai che c'è la virtual! vai, vai, vai! non dovessi sping... ma come cinque secondi di giornata? ma perché? ma no! rifacciamo tutto che è sta roba esci, esci dal gioco esci, esci dalla play esci da casa sta vista è talmente stretta che se ti metti di verso non ti fai ma non riuscivo a tirarmi che voi spingevate io provavo a mettermi in retro per rimettermi dritto non potevo era bellissimo, Xandra adesso c'era la safety car però ma dà la penalità a me anche a me? bellissimo cinque secondi a me e a te me l'ha dato senza motivo tra l'altro che tu spingi cioè io forse... ma anch'io che cosa ci posso fare ragazzi? cioè lì è restart la gara cioè tutto pronto ragazzi si riparte si parla di prima mi sembrava una partenza giusta e si parte ragazzi ecco stavolta sono partito benino eh beh io sono partito male ecco occhia sainz però al dritto mamma mia che taglione vabbè vabbè no scusa sainz vai basta colligione con sainz anche a me ragazzi è proprio una riva no ma dove è stata no 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 ferma tutto successo ma ricorda che devi mantenere positivo ok bene no allora ti spiego ti spiego che cosa è successo ti spiego che cosa è successo eh io nell'evitare sainz ho dovuto tagliare la curva eh quindi ho sottotitato sainz in maniera illecita ma sainz credo abbia avuto un contatto con qualcuno per cui è rimasto dietro io ho fatto avvertimento io continuo a dire ridai la posizione a sainz ma sainz era tipo dodicesimo ah nooo quindi ho dovuto passare tutto ok rallenta 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 senta legatini non ti ha troppo penalità però no no penalità no però adesso safety car sono decima vediamo un po' che succede ok tanto adesso devo entrare la safety car quindi due giri così hai possibili rischi meglio 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 eh così difendiamola quindi sto difendendo la quarta posizione grazie alla safety car ma oddio quasi quasi potrei quasi anticiparla la sosta guarda che ti dico al terzo giro dici eh bisogna capire quanto sta dentro la safety car bisogna capire se dici rientra dici che rientra subito bah potrebbe anche non rientrare subito però eh eh quindi mi prende una decisione ah sicuramente non rientro in questo giro al prossimo vediamo se resta dentro entro comunque anche questa cosa è fatta male cioè se io guadagno una posizione tagliando la curva io devo restituire una posizione non è che se quello si ferma rimane ultimo devo aspettarlo eh sono i soliti bug che non l'hanno mai sistemato eccoli bravi si si l'accetto l'accetto tanto non rientra la safety car come si accetta cazzo L1 che ha messo la gira giro 3 è il terzo giro questo? ma che mi rimesso? si 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 come si accetta? bene no rientro no 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 ah beh non rientrare va bene rientrare vabbè 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 occhio ex aliasse rialzare l'adrenalina eh stagata se ne sta malissima si eh madonna qua si sta un po' overstat per il dio santo è ripartita eh ma è in curva di merda ripartita xander madonna ragazzi mi hanno bruciato proprio vandorna c'è dietro c'è la standard nick che si è una messa che si è una messa oh oh ajani sopra vandorna ma ragazzi che cattiveria vandorna leggermente sbandato friga ma ha subito superato eh si no non abbiamo l'attitudine per questo gran premio ragazzi dopo così tanta pausa così tanto tempo è difficile avere l'attitudine c'è un'lossa di carburante che ci sta pesantendo mi incosta la miscela 3 e spingi beh sei calmo bro non abbiamo l'attitudine per l'equipo cos'è che tra l'altro qua non è neanche facile superare quindi adesso vandorna mi ha inculato la posizione e mi incula proprio a sangue un po' da maxander ma c'è una quantità di carburante abnorme che mi sono accorto adesso ma va fanculo sto tunnel di merda hai buttato la lantinia intanto sempre grave ma cerca di proteggiorare la situazione fanculo ma c'è botta dietro madonna ragazzi da davanti ci hanno bruciato non mi vedo più e come sono in ottime condizioni e per ora non devi preoccuparli oh non ci credo chi è che c'è vandorne no ragazzi ragazzi c'è tutti i testimoni eh vandorne è ancora qua davanti che ha fatto si 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 è fermato eh no no ero davanti ha ripreso eh ma era fermo completamente come fa aver ripreso eh mi ha aspettato e è ripartito ma non si può dire che coglioni che coglioni hai sbagliato contro vandorne no contro perez non so se aggiustare l'ala quando rientro e continuare così ah poco male una battesi nella gambia e adesso devi portare dai ragazzi dai dai la stanno verniciando dai ragazzi vabbè dai sto ben tenino mi stavo bene vabbè dai sto ben tenino ma che che c'è in testa ragazzi ah ci sono terzo ragazzi sono le due Red Bull davanti le ah ci ha rientrato però è inizio ma non ragazzi ma chi è che ha messo giù il sapone porca troia è come quando annaffiano il campo da gioco uguale porca puttana una roba incredibile mamma mia ragazza si può fare un rientro in box così al gomito d'angolo stretto cioè quasi di arrotarti dai dai eh guarda 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 che figli di troia ragazzi che figli di una cagna zio porco c'è veramente anche sta cosa di box che stiamo lì aspettare che passi anche madre Teresa di Calcutta ma veramente guarda si che guadagniamo dai buttalo no 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 Vandorn mi è passato davanti oddio tutto il mucchio ma Vandorn ragazzi era fermo come sta come fa a essere davanti a me ma hai ribattito ma era da fermo ma come fa a essere davanti a me e' questa che è un tuo mucchio ma l'ho trovato davanti a me di correo ma è da fermo cioè era fermo a 0 km orari eh ma è entrato davanti a sto cane di botta sennò che era un problema riprenderlo hai già bugato il gioco normale ragazzi è una modalità pop è 100 volte peggio è impossibile superare ragazzi a Monte Carlo impossibile superare a Monte Carlo vai Vandorn, ti devo spingere eh, ti devo ormai è qui dove cazzo passo eh, è quello Xander, non c'è spazio cioè, il problema di Monte Carlo è questo bello, bellissimo il mare molto brutta questa galleria di figa eh, si v messo pure Franco Bollato Alonso che palle si ragazzi, se non passo io non passano neanche loro però eh zio Kane anche loro possono passare nello spazio dove non c'è sbattendo di fuori tu figura Xander che stiamo facendo eh, si umiliati dalle Meklare, umiliati dalle Renault, umiliati da tutti niente, non gira l'auto niente, botti con chi ho l'alettone botti con chi ho l'alettone forca puttana che disastro che cosa hai fatto? eh, ho visto il pezzo per terra eh ma può anche essere che sia di altri anche Alonso mi ha seguito guarda va no, no, no sono dei figli di troia via ha perso l'alettone del tutto sì però da devono piantare questa cosa che devono venire addosso eh insomma mi hanno fatto entrare la safety card di Osanto se io mi metto di traversa una pista ok, vieni ai box stiamo mettendo a tutta la strategia rientra ai box no, 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 se devi schiantarti schianti e addosso a qualcuno io pure sto facendo da tappo io ho un tremino si è fatto un po' da track lì dietro cazzo si, ciao, non gira più la mia auto eh ma qua mi sto guidando veramente da dritto sì però sembra sta cazzo di curva che non gira eh, porca la madoglia guarda un po' di gente che rientra Alexander ha fatto guadagnare almeno un paio di posizioni almeno ah, buono, buono, buono quelli sono le clerche soprattutto mi stai facendo la tappa a quelli davanti mi stai avvicinando glamorosamente che poi in realtà in questo momento non è che sto facendo la tappa ma infatti non sei giù non so che è il problema ma se ti direi da quanti vanno piano eh, arrivano adesso adesso non ci sono addosso guarda, adesso proveranno a passarmi nel ponte ecco, allora ho perso la ruota persa no, no, mi persa la ruota sei tutto intero ecco di qua niente safety guard cioè c'è uno fermo nel tunnel e niente safety guard, giusto? ah, danno fatale, ritirati non mi ritiro, mi rifiuto giusto devo mettermi di traverso, cazzo cazzo, peccato mi stavi facendo la tappa a quelli davanti mi stavo ria avvicinando comunque questo è ricomincio più tappo che cazzo che c'ho chi è questo da Stappen? Ricciardo e mi chiamo andiamo su Xander che non è questo ma cazzo di safety guard, no? sì, comunque veramente cioè dopo il tunnel fermo in mezzo alla strada niente ma io non mi scena c'ho grassa, madonna non la finisco mica sta gara nessuno mi dice niente cazzo no, amico no devo mettere anche la magra sei dietro, Perez è tangonato devo mettere la magra eh, ma vedi qual è il problema che adesso cercano di buttarti fuori le merda come l'ho fatto con me abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF perché se tu tocchi qualcuno per superarlo ti rompono il cazzo, figa se questi qua invece ti sbattono fuori ti tamponano non ti so mamma mia, non ti so il problema è il tunnel, figa perché tu devi rallentare guardalo, guardalo, Perez guardalo, Perez no, no no si che ti gira dai che ti giro lui dai, dai guarda me di marcia dai dai sono tutti fermi a trenino che gioco che gioco imbarazzante ragazzo che gioco imbarazzante la bandiera verde stiamo scherzando Sandra, tu ti sei perso una scena comunque mi ha toccato da dietro no, no hai picchiato il muretto te hai stretto troppo non mi hai scorto hai stretto troppo e ma il bello che gli altri erano tutti fermi eh, anche perché dove passi no, no potevano passarti quando tu sei atto il retro sono rimasti tutti fermi, eh sportivi ok, vieni ai box ancora ma che cuirone ragazzi però non c'ho più c'ho fermi ai box gli altri tutti rotti hanno rotto tutti eh sì però tu hai ritirato è comunque una marea devo starnudire no, nel tunnel devo starnudire Mick bandiera gialla io che è successo lì ma fai ad entrare sta safety car c'è gente che sta morendo come l'auda figa c'è gente che sta bruciando nell'auto veramente no dai dai non mollare c'è solo Perez dietro eh cioè gli altri sono più lontani cazzo piano ok piano comunque li tiati tantissimi eh uno, due, tre, quattro cinque cinque ritiri più altra gente dietro perché c'è tipo Gasly Xander in realtà ne hai due dietro gli altri sono lontanissimi perché Gasly ha 26 secondi di ritardo ritirato Verstappen ritirato Verstappen che stava davanti a me Verstappen ottavo ottimo era tipo in testa la gara o comunque era nelle prime posizioni questo è un gran problema di Monte Carlo realistico però mi piace oddio sono arrivati eh eh zizzagano zizzagano vai cane dai forza adesso guarda ti butta fuori no no l'ho visto in diretta che merde che merde direttore da niente Xander l'ho visto in diretta ti è proprio preso di lato apposta per farti girare incredibile incredibile bravo dai dai sì 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 speronano speronano fuori i chiodi fuori i chiodi non gira non gira cazzo mi congira Xander difendi il punto non ritirato sì hanno sbazzuto mi sono toccati pezzi la teftica dov'è dai 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 levate zucate zucate ragazzi non finisce nessuno la gara non finisce nessuno questa la dobbiamo chiamare gara a eliminazione figo perché mamma mia destruction derby questa è una gara di per me che cosa sta arrivando dietro lì ah ricciardo qua nessuno sì tra poco sei in bandiera blu abbiamo comunque poi adesso puoi corricchiare potresti anche mettere in start paradossalmente no 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 dietro non è più nessuno o è Gasly quello cioè nel senso che sono ultimo no è Ricciardo è una Red Bull quella ragazzi è dietro Ricciardo no aspetta sì sì è Ricciardo però occhio perché Gasly è a 3 secondi e 4 quindi in realtà dietro passa passa è occhio perché dietro è subito Gasly è già dietro è successo di tutto figa in questa gara è successo di tutto una puttola fuori Ricciardo adesso no no che vai vincere Lewis che recupera c'è giù lo sto butta fuori Lewis non c'è non c'è faccio più fa niente fa niente mancano due giri e arriva Gasly due nei dietro Gasly e Grosjean tutti i due dietro cazzo vi rimonta il fatto che hanno dietro di 30 chilometri eh ma io sono ando malissimo eh lo so c'è è Milton rallentato ma come è bandiera bandiera blu però no no non mi giro non c'è no vabbè ragazzi imbarazzando quello che sto vedendo ragazzi c'è Gasly che potrebbe andare fermo guardalo bravo per play no Gasly 5 secondi di penalità che schifo questo gioco sì no ragazzi questa gara è talmente brutta da essere bellissima talmente brutta da essere bellissima buona gli altri non ci sono è rimasto fermo Urkenberg è terzo Van Dorn quarto io ti dico solo questo che bellissimo gran fratello piano eh ozzo piano vai passa attenzione entra è entrato all'esterno resto dentro resto dentro no è dentro lui è dentro lui adesso devi non perdere 5 secondi ma bandiera blu cosa c'è Hamilton sì c'è Hamilton no è certo devo lasciarla male così occhio è perché ti hanno la penalità anche a te lascio andare lascio andare vuole entrare vuole entrare l'esterno vai 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 non chiudi che c'è ma che no Xander non mi arrivare l'undicesimo non mi arrivare l'undicesimo da pure la gara così dai che stai franco bollato dai dentro lì dentro dentro ah ha perso terreno Magnussen non l'avete sbattuto fuori che bello occhio Xander che sei sotto bandiera blu eh e ho capito basta no no ti dà le penalità hai da buon atto hai da buon atto no no questa non è bandiera blu questo non è bandiera blu non ho capito cazzo perché era difficilissima da capire non sto capendo un cazzo oh quindi Perez ma è davanti è giusto no 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 Perez non è bandiera blu Perez no ma Perez non era in bandiera blu cazzo cani maledetto no 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 non era in bandiera blu merda è bravo è un po' capirla figa da pure e lo so che anche Magnussen anche Grosgiano non hai bandiera blu cazzo di super perdi il punto è occhio ma no che casino però sì eh adesso dietro c'è una marea di gente stanno sventolando bandiera blu a caso non capiscono più niente la gente è lì ferma ammutolita no non faccio basta più nessuno gente ammutolita madonna Gasly altri 5 secondi di penalità ma il cazzo oh occio 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 che c'hai dietro finite mamma mia ragazzi che gara assurda che gara cioè che gara assurda ragazzi che gara assurda bellissima vai là vince Daniel Ricciardo secondo Hamilton e terzo Hulkenberg ragazzi una Red Bull che sembra che non ha neanche corso da quanto è pulita allora com'è felice Ricciardo vediamo la classifica tutto questo casino per un punto un po' d'oro allora vediamo posizione in classifica recupera Xander nonostante il punto scivola in quarta posizione si riavvice ma potrà si riavvicinare un pochino Hamilton meno 37 7 meno 18 ma Bottas che fine ha fatto se l'ha ritirato o ha finito Bottas era davanti a me Bottas no settimo 6 punti li ha preso peccato da che Perez si poteva lasciar dietro ma figa sembrava che era davanti anche a me tutto sommato sono quasi soddisfatto eh sì vabbè dai ritirati Spider mica ritirato gente con più di un giro prossimo gran premio non lo so vediamo subito perché mi da ancora Monaco anche a me riparte adesso ti immagini Canada Canada vabbè allora ci vediamo sul canale mio bella ciao ciao ciao